Ieri ad Aquare è stato intitolato l'oratorio parrocchiale in memoria di Don Donato Romano, scomparso prematuramente il giorno di Capodanno a causa di un malore mentre si trovava nella cattedrale di Teggiano. A poco più di un mese dalla morte del parroco, che ha guidato la comunità aquarese dal 2005 al 2017, il paese cilentano ha voluto omaggiarlo. Dopo la messa nella chiesa di San Nicola di Bari, presieduta dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, padre Antonio De Luca, si è tenuta la benedizione e la titolazione dell'oratorio. Alla presenza di tanti cittadini che hanno ricordato con affetto il sacerdote e dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Marino, è stata rivelata la targa realizzata con piastrelle di ceramica ad un artista del posto che si trova all'ingresso dell'oratorio. Su di esse è ritratto Don Donato, sorridente, ed è riportata una frase che era solito pronunciare, Dio ti vuole bene, vogliatevi bene, statevi bene. Nella stessa giornata, anche nella cattedrale di Santa Maria Maggiore a Teggiano, il paese dove Don Donato era attualmente parroco, si è tenuta una messa in suo suffraggio.